Tutti parlano del futuro dell'agricoltura, ma il futuro della tua azienda agricola ci hai mai pensato? Noi di Climate FieldView pensiamo fermamente che il futuro possa arrivare attraverso l'analisi dei dati e l'analisi dei dati è proprio il cuore della nostra piattaforma. Qui ci troviamo presso l'azienda agricola Emiliani che utilizza la piattaforma FieldView per monitorare i propri appezzamenti e le proprie colture, dalla semina alla raccolta. In questo caso specifico di questo appezzamento di grano è stato monitorato dalla semina, è monitorato tuttora attraverso le mappe satellitari, mappe satellitari che l'agricoltore ha utilizzato per creare le proprie mappe di prescrizione per concimare il grano a rate variabile. Inoltre in questo appezzamento sono state utilizzate diverse strategie di difesa fungicida, tra cui quella con l'innovativo Ascra X Pro. L'agricoltore poi al momento della raccolta potrà analizzare la resa della propria azienda, dei propri appezzamenti, di questo appezzamento specifico e soprattutto la resa anche per ogni strategia di difesa utilizzata, in modo che lui stesso potrà decidere quale sarà la strategia di difesa fungicida migliore da utilizzare nei prossimi anni.